Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa. Segnaliamo che il cantiere terminerà domani con un mese e mezzo di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A11 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Firenze tra Pistoia e il Bivio per l'A1. Fare attenzione per le condizioni meteo, pioggia sulla FIPILI mentre è prevista neve sul tratto appenninico della A1. Ricordiamo che sono obbligatori i pneumatici invernali o catene a bordo. Buorsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!